Ciao ragazzi come state? Benvenuti in questo nuovo video Oggi faccio questo video perchè mi è stato chiesto Allora mi era stato chiesto un po' di tempo fa ad un mio iscritto Di fare la recensione del Brat Deck Allora come sapete io di recensioni di mazzi ne ho fatte molti E vi lascio la playlist qua sopra se volete andarlo a vedere Però ho deciso oggi di cambiare un po' modalità nel fare le recensioni Perchè non so se lo avete mai notato Ad esempio nella copertina del video delle recensioni Le ho sempre fatte tutte uguali nello stesso modo per diciamo Avere un format a recensioni sul mio canale sempre uguale Mettevo le classiche 4 immagini divise con 2 righe bianche a metà Con la scritta nel nome del mazzo che recensisco Bene con oggi che voglio recensire il Brat Deck Per chi non lo conoscesse è questo Oggi voglio diciamo parlare con voi di questo mazzo Non sarà forse una vera e propria recensione o forse sarà uguale Non lo so è la prima volta che la provo appunto sto sperimentando Quindi ditemi nei commenti cosa ne pensate del video che vedrete adesso Quindi cambio un po' la modalità di fare le recensioni Non so se ci saranno altre recensioni future Non lo so avevo un po' idea di smetterle Però avendomi chiesto di fare questa mi è venuta questa idea E quindi diciamo che le vecchie miniature delle recensioni Rimarranno come sono sui video vecchi Ma da adesso un po' le recensioni avranno un'altra miniatura Quindi volevo dirvi questa novità con la recensione di oggi Allora due cose Il video di martedì vi è piaciuto molto E sono molto contento perché è un effetto di mia invenzione Se non l'avete ancora visto andate a vederlo Ne sarei molto molto grato se andate a vederlo Seconda cosa non so se ve ne siete accorti Ma sono arrivato a 3000 iscritti E questo vi ringrazio tantissimo Quindi a breve tenetevi pronti Penso già martedì Comunque a breve breve Uscirà il contest che avevo già parlato nel scorso video Vi dico tenetevi pronti perché non sarà solo un contest Sarà qualcosa di più e ci saranno dei bei premi in paglio Quindi aspettatevi questo contest E niente facciamo la recensione del Vrat Anzi parliamo del Vrat Ok eccoci con il Vrat deck Allora vi dico subito che questo è un mazzo che penso che sia il mio preferito Infatti mi era già stato chiesto in un fuck you time O anche quando qualcuno mi chiede Se mi chiede qual è il tuo mazzo preferito Ammetto che non è facile Almeno non l'ho ancora proprio trovato il mio mazzo preferito Ma questo penso che sia sulla buona strada A parte per un particolare che vedremo adesso Allora la scatolina Come vedete è una figata Mi piace un sacco E non penso che si veda la telecamera Ma se è messa contro luce la scatolina Qua davanti raffigura un drago Che sarà poi quello dei jolly Ma si può vedere questo drago E già questo mi piace tantissimo Poi un'altra cosa che mi fanno piacere queste carte Che sono in edizione limitata Infatti se non sbaglio Ne hanno stampate solo 10.000 copie Non vorrei dire cavolate E quindi quando l'altranno Perché l'ho comprato un anno fa A dicembre Quindi si un anno fa Quando l'altranno l'avevo ancora trovata Anche se erano uscite uno o due anni prima Non so se c'è scritto sotto No Non lo trovo No Ero stato felicissimo di averla trovate E quindi è andata così Allora beh sul lato trovate Produced by Shinlim Vabbè è vero Per chi non lo sapesse È il Vrat deck di Shinlim Quindi se apriamo Ecco una cosa bella Che è sul flap della carta C'è scritto SL E poi King of Spades Che vuol dire Ready pick Ed è una predizione Quindi è una cosa carina Allora Questo mazzo Ha delle particolarità Allora Appena lo prendiamo Troviamo questa carta Che oltre ad avere un'altra predizione Perché You will pick the four of diamonds Quindi I Prenderai il Quattro di quadri Ha un'altra cosa Qui dietro Non posso farvi vedere Qui Ha un codice QR E un link Che ce l'ha Questa particolarità Noi abbiamo Un tra di cuore Gaff Due jolly Di cui uno Ha un cuore Tra le zampe Del drago E abbiamo L'altro tra di cuore Normale Che non so dove Eccolo qui Abbiamo Questo tra di cuore Normale E si può fare un effetto Adesso ve lo faccio vedere Bene Fate vedere Il jolly Normale Fate notare Che sia un drago Prendete Mettete Il jolly Sul tavolo E fate vedere Il tre Guardate Mi basta Fare questo Che Prendete Il cuore E lo mettete Sul jolly E il jolly Al cuore Bene Questo era L'effetto Che si può fare Con le carte Gav Di questo mazzo Poi allora All'interno Trovate le facce Che sono standard Da parte Per una cosa Che secondo me È bellissimo Ci sta un sacco In questo mazzo Mi piace Infatti È una delle particolarità Che me lo fa salire Di livello Il fatto del Il rosso Come vedete Il rosso Dei cuori Dei quadri E Più scuro Alla bordo Ve lo faccio vedere Eccolo qua E più scuro Sull'esterno Ha questa ombra Che è molto bella Mentre invece I neri Sono romanissimi Allora L'asso di picche È bellissimo Ritorno a dire Che è Molto molto bello Guardate qua Fantastico Adesso Andiamo a parlare Del retro Che Questa è Quello che Mi Diciamo Mi scende Un pochettino Allora Il design del retro Mi piace Una cosa Che mi piace Molto Sono Questi Quattro Quattro Rombi Che Se noi Distendiamo le carte Danno questo senso Di continuità Il rosso Il nero Il bianco Insieme Ci sono benissimo L'unica cosa Ha i bordi Un po' spessi Io A me non piacciono Le carte Che hanno Il bordino Spesso Che poi non è più neanche Un bordino È un bordone E Questo È per quello Che vi dicevo Che non sono ancora sicuro Che siano le mie carte preferite Però vi dico Per il design E per la qualità Soprattutto Ora ne parliamo Mi piacciono veramente tanto Allora La qualità Sono morbide Molto molto morbide Un mio iscritto Mi aveva detto Quando fai la recensione Dei mazzi Confrontale con le bicycle Per dire come sono Perfetto Prendo un attimo Un mazzo di bicycle E Ne parliamo subito Ok Eccoci qua Con un mazzo di bicycle Allora Vi voglio far vedere Che La qualità Del Del Vrat Sono Un po' più morbide Che le bicycle Secondo me Sono Sono più morbide Quindi se Se vi interessa Se voi avete Un mazzo di bicycle A casa Il Vrat Secondo me È un pochettino Più morbido E' anche vero Che questo bicycle È più nuovo Rispetto Al Vrat Però il Vrat Non l'ho anche mai Usato tanto Quindi penso Che più o meno Si possono già Comparare Quindi Come qualità Vanno bene Sia per il lavoro Da tavolo Che per il cardistry Tra l'altro L'avevo usate Per filmare un cardistry Che non l'avete mai visto Ma perché Non ho ancora avuto Tempo A Caricarlo Perché non era ancora finito Dovevamo ancora A filmarlo Non era del tutto finito Comunque vanno bene Sia per il cardistry Infatti l'avevo anche usato Per fare il tutorial Di un mio taglio E vanno molto bene Per fare magie L'unica cosa Che sono molto belle Quindi darle A rovinare Usandole sempre Dispiace un po' Giusto Mi stavo dimenticando Che è un'altra cosa Che scoprite Se comprate il mazzo Che con quella carta Che vi ho fatto vedere prima Con il codice Bla 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 Scoprite Il cosiddetto Segreto Che si c'era sul dorso Di queste carte Il Diciamo Il segreto Non vi dico il meccanismo Perché Non lo ritengo giusto Per Per chi non ha comprato Le carte Più che altro Per chi le ha comprate Che le ha comprate Un po' Sopraverlo Che il Il dorso È one way Vi dico solo questo Quindi che dirvi Spero che questo nuovo Tipo di Parlare con voi Su un mazzo di carte Non la classica recensione Questo è così 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 Vi sia piaciuto Mi piacciono molto Queste carte Penso che L'abbiate capito Hanno una qualità Che è veramente Pazzesca Io non so Che altro dirvi Vi dico Sono stati sintetizzati Perché a breve 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 Arriverà il contest Ciao ragazzi